Sono arrivate anche a Matera le prime dosi del vaccino anti-covid-19 prodotte dalla Pfizer-BioNTech. Il furgone con all'interno le prime 975 dosi è arrivato nel pomeriggio all'ospedale Madonna delle Grazie, scortato dagli agenti della polizia stradale che hanno accompagnato il carico refrigerato a meno 80 gradi all'interno della struttura. La somministrazione al personale dell'azienda sanitaria di Matera, con priorità a quello maggiormente esposto al virus, inizierà sabato 2 gennaio, il tutto in attesa delle prossime dosi. Secondo quanto si è appreso, all'ospedale materano attrezzato per garantire le perfette condizioni di conservazione del vaccino arriveranno nelle prossime ore un totale di 4.900 dosi. Nella giornata di mercoledì in Basilicata sono arrivate 4.875 dosi di vaccino anti-covid, a tre giorni di distanza dalle prime 105 che hanno caratterizzato il Vax Day di domenica scorsa.